E' finita nell'imbola Lioni Grotta Minarda, l'arteria a scorrimento veloce che dopo decenni dovrebbe completare il collegamento tirreno-adriatico con partenza da contursi. L'avanzamento dei lavori, l'angue, nonostante le risorse finanziarie concretamente disponibili per i consorsi Infrasud e Infrad. La produzione dovrebbe attestarsi a 2-3 milioni al mese di lavori, ma è ferma al 10-15%. In 30 giorni in pratica si completano lavori che non vanno oltre i 300 mila euro di produzione. Delle tre maggiori aziende consortili, la Marino Costruzioni, per quel che le è stato affidato, procede rispettando gli standard. Meno bene fa condotte e peggio di tutte la ECI Costruzioni. Al completamento della strategica arteria manca il 30% e ci sono da spendere 270 milioni già disponibili. Se si dovesse continuare con i ritmi attuali, tenendo nel conto anche le difficoltà operative che persistono per la realizzazione della Galleria San Filippo, i tempi si dilaterebbero a dismisura. Il punto verrà fatto domani a Napoli. La Regione ha convocato una riunione per fare un momento di sintesi. Ci saranno i rappresentanti del Mise, il capo di gabinetto della Giunta regionale, il responsabile dell'ufficio legale di Santa Lucia, il direttore dei lavori Giancarlo D'Agostino e naturalmente i rappresentanti dei consorsi. La Regione è disponibile ad ascoltare le ragioni di Infrasud e Infrad, ma un attimo dopo è pronta ad usare il pugno duro. Le risorse ci sono e dunque non ci sono alibi.